amici zagoriani bentornati da oggi ne dicono il nuovo classic zagor il numero 44 trappers c'è da dire due o tre cose su questo su questa storia che inizia in quest'albo e finirà poi nel prossimo guardate questo bellissimo copertina ancora nel formato a striscia il fuggitivo che sarà indicola dal 15 novembre bellissima copertina però andiamo per ordine allora vediamo un pochino all'inizio cosa ci dice moreno burattini o dunque ci dice sì che in questa metà di questa di quest'albo dove finisce la storia vedete di meloncelle bignotti iniziata nel numero del mese scorso e comincia una storia molto importante che è diventato un classico della della serie zagoriana della zenith andiamola a vedere e qui intanto facciamo andiamo un'occhiata alla fine di questa storia vedete il le poche pagine 13 pagine che portano alla fine della dell'avventura cominciata nel mese scorso si concludono proprio a pagina 12 nella tredicesima pagina comincia la storia trappers che come ci dice appunto moreno è la storia che si conosce come cacciatore degli uomini nella serie zenith e la preda umana il 29 e il 30 della zenith e qui le due curiosità sono la prima che intanto ragazzi guardate che disegni qui stiamo entrando proprio già nel periodo d'oro guardate anche questa prima vignetta in alto con questo taglio lungo che meraviglia e dicevo qui c'è per la prima volta sergio bonelli presenta ci fa vedere il randi randevo dei trappers che poi saranno come sapete un punto di riferimento e anche uno spunto di avventure nel corso degli anni nella nella serie e all'inizio c'è proprio zagor che con ciclo sulla cannoi gli spiega un po cosa sono perché di questi incontri e parlando e presentando alcuni personaggi tra l'altro guardate qui c'è dunai che ha avuto il privilegio insomma ha avuto la una storia dedicata a lui proprio in questi ultimi anni dove alla fine riesce a trovare la sua volpe a qua allora dicevamo ragazzi in questi in questi raduni moreno ci dice tra l'altro che ovviamente sono esistiti e ci dice che lo stesso bonello ha preso spunto per il posto del primo del raduno dal nome è un po' rilaborato chiaramente di un importante raduno che si teneva in quegli anni che poi come ci dice sono negli anni dal 1825 al 1837 quindi una quindicina d'anni poco meno è stato diciamo l'epoca d'oro dei di questi raduni che portavano ovviamente commercio scambi una sorta di città costruite nell'arco di pochi giorni che poi sparivano dopo essersi concluso il raduno qui facciamo la conoscenza e con alcuni personaggi che poi diventeranno storici e ne vedete qui uno inutile vi dica chi è la famosa il famoso duello del ponte che anche questo si rivedrà nel corso del tempo degli anni diverse volte e la storia ragazzo sarà molto bella molta molto appassionante e ci presenta quello che è rimasto ovviamente è una litta non non perdo occasione di come vedete di inserire nonostante la drammaticità del momento una gag di shiko vedete che zagor fa un'entrata delle sue in questo accampamento indiano e poi cico arriva e non riesce a lasciare la reana e rimane avvinghiato all'albero però come riusciva a inserirle in olitta senza come si spezzare la trama senza far perdere il filo conduttore del racconto era unico chiaramente ok dicevo qui la storia si svolge in due altri quindi finirà nel prossimo vi volevo far vedere il nemico diciamo di turno la prima apparizione vede ce lo presentano prima di spalle come si usava fare per non far vedere subito interlocutore e poi eccolo qua alex nicholson come come dice lui guardate anche questa vignetta ragazzi e ferri fa faceva delle cose incredibili e insomma qui poi si svolgerà nel prossimo numero questa caccia all'uomo di qui zagor è la preda e questa storia come vi dicevo è rimasta un classico nella serie zenith che andrà poi nei prossimi mesi ragazzi incominciremo a vedere delle delle storie che sono rimaste storie come la casa del terrore ora vado a memoria guerra poi ci saranno i ricattatori prigioniero rivedremo ellingen ci vorrà un po di tempo ma arriveranno tutte storie veramente veramente belle diciamo che può cominciare già a parlarsi di della golden age anche se non sarà proprio il top in quel momento ma insomma ci saranno già delle pietre miliari che rimarranno nella nella che sono rimasti in tutti questi anni la sedia coreana dei classici quindi questa è una veramente per chi non ce l'avesse ragazzi anche a colori è veramente una bella storia comincia veramente una bella storia ok allora numero 44 già da oggi in ridicola trappers classic zago buona giornata a tutti